a volte mi dicono si fluifort, poi tac, pigirina e a forza di farle, che poi mi ha detto citro, soddina, no scusa, e a forza di farle serenase in un actimel, mi so busco per un bronchionolo, ma non senti che freddo, fa zero in ol' gradio, non fa bene a gol, oh te finiti per un meflector per l'artrosilene, ma proprio lì, proprio lì, enantium, ma un malos che mi augmente in un moment, mi dicono che aspirina, ma ando vivi, vivi in c, là sono il, che? io ho to san, ma fatemi il plasilo, non vedi che gentline che gira, questi non capiscono niente, io sto al multicentrum, con la scritta attenti al canestern, vedi, vieni qua, è buona, ma avevo la codex, sto in una via dritta dritta, via agra, ciao, sto in via agra, anche se il mio va ancora supratine, è ancora ben active, sto con Valeriana, che quando mi fissano, mi fa bene l'anzio lì, infatti gli dico, ma sta amore che te lo do la fa, non sei Anna Falqui, sei piena di brufen, però quando mi dice resti foil, è la luce in dei miei occhi, io per lei ho fatto dei foil, guarda, io ho detto, vuoi un aereo, tu compro, io ho preso un aereo, e lei mi fa, un aerosol, e me è meglio un aerosol che isomar, stavamo, stavamo nella stessa Aulin, sì, anche se lei è in preparazione H, beh, totalmente no, più brava è la Prozac che è la poesia, sì, io con lei vorrei vivere con tantum verde intorno, fumarmi fiori de bac, mangiare ananas e ananase sotto un eucaliptol, pure fave de fuga, solo che dopo fai a fugar bagno, in mezzo alla vegeta allumina, perché come te, un digestivo Antonetto, un locale coi tavor de fuori, più che altro, guarda come stanno, state tutti fuori coi tavor, ma coi tampax che corrono dovuto chiude, così in un modium muo in un altro e fa la vita più xanax, speriamo che non mi pentotale, ne vali un la pena, optali don panna all'estero, allora ragazzi, che vedo di, enteron germina, ciao